Gentili telespettatori, buona giornata. Quando gli attori vogliono far politica, a me personalmente cadono un po' le braccia. Parliamo di Gasman che attacca la Meloni. Io sono dell'idea che bisogna essere corretti, retti, con la spina dorsale dritta. Vuoi attaccare la Meloni? Tira fuori le tue rimostranze serie, motivate. Vuoi parlare bene della Meloni? Parlane bene, ma tira fuori degli argomenti serie e motivati. Non bisogna dire la Meloni non mi piace perché così, oppure la Meloni mi piace perché così. Insomma, bisognerebbe cercare di motivare quello che uno pensa. così da una parte abbiamo Lucia annunziata che proprio il giorno prima delle esternazioni di Gasman parla misteriosamente di diritti negati in Italia. E poi riflettendo 25 aprile, l'annunziata dice che questo è il 25 aprile peggiore che ci sia, perché ci sia mai stato, perché siamo in mezzo in una situazione dove vengono negati i diritti. Ma di chi? Scusate, a chi sono stati negati i diritti in questi sei mesi di governo Meloni? A chi sono stati negati i diritti? Realmente? A chi? Non c'è una risposta. Quindi dicevo proprio nel video che parlava dell'annunziata di cosa parla? Quali diritti? Facciamo nome e cognome di questi diritti negati alle persone. Ma Alessandro Gasman sembra che voglia imitare l'annunziata sul terreno delle cose dette così a caso. A meno che lui non dia delle spiegazioni. Poi ci riflettiamo, le analizziamo e ci riflettiamo. Se Alessandro Gasman ci fa sapere, anche lui, perché anche lui dice la stessa cosa. Quali sono questi diritti negati? Io mi impegno a informarmi bene, a valutare veramente se questo governo sta negando dei diritti a delle persone. Però devono essere dei diritti negati nuovi. Non deve essere una situazione che c'è in Italia da sempre e si vuole dare la colpa al governo Meloni. Quindi che cosa in questi mesi la Meloni ha fatto per negare i diritti a delle persone? Ma lui, Alessandro Gasman, sposa la tesi della annunziata. Beh, l'annunziata parlava di un 25 aprile diverso, accusando il governo di vietare il diritto alla libera circolazione delle persone. Come? Il governo vieta la libera circolazione delle persone. Guardate che quello che negava le circolazione delle persone racconti, con i decreti quelli per il covid, che la Meloni stia vietando la circolazione delle persone è la prima volta che lo sento. Secondo questo governo, per l'annunziata, viene vietata la libera immigrazione. In realtà non c'è una libera immigrazione. Parliamoci chiaro. Abbiamo l'immigrazione regolare e l'immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina è quando arrivi in Italia senza documenti, senza passare da frontiere, eccetera, eccetera. E poi abbiamo l'immigrazione regolare che nessuno vieta in Italia, che non è libera. L'immigrazione, quella non clandestina, quella regolare, non è libera. Tu non è che arrivi al confine, tiri fuori il passaporto e dici, guarda, aprite le porte che c'ho il passaporto. Aprite il silenzio che devo passare. Funziona così? Col cavolo. Tu puoi andare in un paese per turismo, per ricongiungimento familiare, per lavoro, ma devi dimostrare queste cose. Quindi non esiste la libera immigrazione. Voi non siete liberi domani mattina di trasferirvi negli Stati Uniti. Non siete liberi di trasferirvi domani mattina in Canada o in Australia. Dovete informarvi come poter fare. Ci sono delle agenzie che fanno proprio questo lavoro di orientare le persone sui requisiti e le caratteristiche per poter andare a vivere in un altro paese. E così anche l'attore romano Alessandro Gasman parla di diritti a rischio nel nostro paese. E chiederei anche a Gasman, oltre che all'annunziata, quali sono questi diritti negati, questa libera immigrazione vietata? Dove sono questi diritti a rischio nel nostro paese? Parlava anche Letta così di una specie di dittatura che stava per arrivare e poi quando la Meloni ha vinto le elezioni Letta è stato il primo a telefonare per congratularsi. Come? Ti congratuli con quella che pensavi che era una dittatrice in procinto di uscire sul balcone di Palazzo Venezia? Vince e ti precipiti a fare gli auguri? Bella vittoria, complimenti, eh ma sì insomma. Ecco, quindi tutto questo pericolo che vedono alcuni personaggi vicini alla sinistra o a sinistra sono incomprensibili nel senso che io vi dico parlate di cose serie, volete criticare la Meloni e il governo? Criticate, ci sono un sacco di cose per poter criticare, criticate su dei fatti reali ma non inventate delle storie di Babbo Natale che non esistono, proprio inventate alla vigilia del 25 di aprile. Ecco, tutto per racimolare forse qualche decimale in più nei sondaggi. Il 25 aprile oggi è la festa di tutti gli italiani liberato il paese dalle dittature che si erano insediate, non solo quella italiana ma anche quella germanica. Quindi il paese in quella data lontana conquistò libertà e democrazia dopo decenni. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti nuovamente per seguire questo canale, per esservi iscritti. Ringrazio tutti quelli che gentilmente lasciano dei commenti carini, simpatici e poi ci sono anche gli odiatori seriali che salutiamo anche loro. Continuate a odiare, spiace che non abbiate avuto una vita troppo felice, continuate pure. Se questo vi provoca delle soddisfazioni siete messi proprio male. Arrivederci a tutti e grazie.